Maurizio Rampino Nel corso della cerimonia per la decima edizione sono stati assegnati i premi per i migliori articoli, servizi e reportage, editi e inediti sul tema Il diverso tra noi, rispetto e disprezzo, accoglienza e intolleranza, le mille sfumature della cultura occidentale. Dal 2011 è stato poi istituito anche il premio giornalistico Maurizio Rampino alla carriera, che quest'anno è stato consegnato a Massimo Giannini, che ha ricevuto anche un metro cubo di Salento, consegnato dal direttore di Coldiretti Brillante. Io direi che c'è bisogno soprattutto oggi di fare e di credere ancora in questa professione, dico soprattutto oggi perché internet ci ha fornito e ci fornisce delle opportunità straordinarie, ciascuno diventa giornalista di se stesso, può fare approfondimenti in rete, trovare sul web tutto quello che cerca, però con un grandissimo limite. Il web è puro flusso di informazioni, dentro al quale non sei mai in grado di stabilire qual è l'attendibilità, l'affidabilità e la credibilità di tutto quello che stai leggendo. Allora la cosa importante che ciascun giornalista dovrebbe fare è proprio preservare la credibilità e l'autorevolezza dell'informazione che si fa. Il ricordo di un caro amico scomparso dieci anni fa, che era un giornalista, un precario, ma che era un cavallo di razza, era l'amico di tutti ma servile a nessuno, una persona che quotidianamente informava tutto il nord Salento di quello che accadeva. L'amministrazione comunale continua questo premio e vorrà continuarlo perché è importante che tutta la nostra cittadinanza abbia il ricordo di questa grande personalità. Mai come adesso l'intitolazione del premio somiglia a Maurizio sulla diversità, i diversi, i diversi tra noi. E lui ha interpretato questa diversità anche nel suo ambiente giornalistico, essendo sempre più vicino al territorio, all'esigenza del territorio, senza fare un giornalismo d'assalto, è stato sempre legato alle esigenze reali del nord Salento. Nella categoria inediti una menzione speciale è andata al progetto Going Around, un'idea di Marzia Papagna che cura e gestisce il progetto con la collaborazione di Giovanni Mangione e Maria Paola Graziani, nati con la sindrome di Down. Il vincitore della sezione è stato invece Clemente Lepore, con il racconto di solidarietà dei migranti a Benevento, apparso su Minima Immoralia. Nella categoria editi la giuria ha deciso di premiare Andrea Tundo con l'articolo Brindisi, 25 anni fa il primo grande sbarco, 25.000 albanesi arrivarono in 24 ore, pubblicato sul FattoQuotidiano.it. Al secondo posto Alice Martinelli con La Germania ci dà lezioni pure sull'accoglienza della trasmissione La Gabbia di La Sette. Terza classificata Roberta Grima con La Sfida del Diverso su SanitàSalento.net.